iscriviti al canale allora allora al fuoco è lisa o è morto? è lisa paolo grazie paolo grazie paolo 81 come si gioca quest'anomalia? il meglio possibile snipping tool cerchi non morire in reality game e basta non è che c'è molto ho delle reclute fresche fresche per te non dirlo agli altri vado il tifo da te ah no sai cosa sono molto tentato ancora di più? sono tentato di fare 3-3 ma addirittura di vendere lui perché potrei subire un danno in meno non dirlo agli altri ah se rimango a un punto vita questa partita voglio un chat spam di mossa totale questa mia da calacca bene mettiamo dei servitori migliori qui dentro buona battaglia è la 1-2 per favore la 1-2 per favore la 1-3 per favore qui Ehi, nessuna live, Nikas, perché ho... Ehi, nessuna live... Ehi, ma che era... Ehi, chi stiata... Vivi, 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 vivi... Siamo vivi! Tutututututututututututu... Di steugiamo, non vi preoccupate... Ti ha parentesi con 99% di ita, perché io ho fatto ovviamente 4 e 1 4, e quindi... Tutti i besti trovai annaquati in campo... Ehi, no... E lì te l'ho diminuito... Io ne ho fatti 11... No, hai tinta io... Ok... I tuoi servitori hanno davvero dato tutto... Ehi... Ehi... Bene, mettiamo dei servitori migliori qui dentro... Ehi... Eri, bene... Ehi... Ah! E anche la morte può fermarmi. Questo fa un po' schifo. Direi che è lui che ci deve abbandonare. Per il duo vivace. E dopo tolgo anche i rinac. Oh oh. Una bolletta di Clari Bianchi. Oh oh. Di platicamente non rischio di essere lente in questa lobby. Pensa se io non muoio qui. Se io vinco questo fight. Sempre da moriroso. Oh, certamente un po' di non ripianta Iplom. È poco ma sicuro. Anche a me non piaceva, eccoti una moneta d'oro per il disturbo. Vildeaco. Credo di volerlo. Continua così, forza. Oh, dice una vera, mi continuo, zombra. Oh, tío. No, veste mal. Dovevi pareggiare, no? Buono D.A.K.I ci serve D.A.K.I ci serve D.A.K.I ci serve D.A.K.I, L.A.K.I D.A.K.I 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 ora sui denti, ora nel cappello ah, non ci sei tagliato sono un po' indeciso, potete dare tanto un po' a tutti prebaffarlo, essenzialmente prebaffarlo guarda, guarda, c'è anche bisogno questo il cavallo quei riporti, no dio il tuo guarda, 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 guarda guarda, 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 guarda Anche a me non piaceva. Eccoti una moneta d'oro per il disturbo. Eccoti una moneta d'oro per il disturbo. Eccoti una moneta d'oro per il disturbo. Che senza coraggio questa partita è... Chissà se sarebbe andata così bene. Eccoti una moneta d'oro. Un servitore in meno, una moneta d'oro. Ma non è l'aria. E' un polpondo da te. Eccoti una moneta d'oro per il disturbo. Eccoti. Eccoti. E' una melodia d'amore! E' una melodia d'amore! E' una melodia d'amore! E' una melodia d'amore! E' un'altra melodia d'amore! E' un'altra melodia d'amore! E' semplicemente forte! Non lo faccio di farlo! Non lo faccio dopo eh! Vedo che lui possa stare mi dietro! Però... Si sa mai! Ah si è... Eh però l'ultimo tu non lo faccio eh! Ha ha! Mi piace il tuo modo di pensare... Un servitore in meno... Una moneta... E' un per lei! Quello farà un bel po' di danno! Essi sono l'inizio non c'è! Ado che sentire le percussioni! D'almò... Un servitore in meno... Una moneta d'oro in più. I pesci sono 10, non 5. Bella scelta, molto patica. Assolda pure una di queste regole. Versaglio. Un servitore in meno, una moneta d'oro in più. Anche a me non piaceva. Eccoti una moneta d'oro per il 10. Anch'io avrei scelto quello. Non posso sentire le percussioni. Due punti di vita. Questo è il momento per il meme di questi clan che prende a pugni il tizio. La mia moglie. Un'altra cosa è che è un'altra cosa. Un'altra cosa è che è un'altra cosa. Non è un'altra cosa. Il primo è un'altra cosa. per i ma basta